Una grande storia, uno scenario senza uguali. La città più grande d'Italia, Roma, torna nuovamente protagonista con il circuito delle terme di Caracalla, in casa del team bike Terenzi per la corsa riservata alla categoria Under 23 d'Elite al femminile. Il Gran Premio Liberazione Coati, una corsa legata a doppio filo alle celebrazioni del 25 aprile, ma è anche una giornata di festa per l'intero territorio italiano che dal 1946 poi beve proprio nella città di Roma, grande protagonista con il Mondiale di Primavera per gli Under 23 dilettanti, ma anche con questa terza edizione sposa anche le ragazze che vanno di scena. Il 25 aprile è una data simbolo nella quale appunto le truppe della Repubblica di Salò e le truppe naziste si ritirarono dalle città di Milano e Torino con Roma che esultava. Roma appunto, così come nel 1946 vedeva le biciclette sfilare libere per la città, anche in questo 2023 vede le pedalate appunto nella memoria, vede le ragazze protagoniste oramai pronte a darsi battaglia e siamo schierati sulla linea di partenza quindi saranno 96 chilometri da percorrere nello storico circuito delle terme di Caracalla per un totale di 16 giri, 6 chilometri appunto il tracciato da ripetersi, in palio c'è anche il trofeo Mario Carbutti destinato alla squadra della vincitrice. Tutto è oramai pronto, pochi istanti al via, si attende il fisco all'inizio e la bandierina a scacchi che viene abbassata parte il coati liberazione donne, categoria 1.2 Women Elite. 75 sono le concorrenti che hanno preso il via, c'è la nazionale ucraina con i primi numeri e poi troviamo anche la formazione, la forte formazione quella della UAE Development Team, attenzione al numero 11 Francesca Pellegrini, c'è Sara Fiorine, Emma Radaelli, Linda Zanetti, Beatrice Caudera con il 17, poi c'è la formazione della GB Junior Team dal Piemonte quindi con Giulia Giuliani, attenzione anche a Monia Garavaglia, Silvi Truc, Chiara Sacchi, Lisa anche con il numero Imed, il numero dorsale 26, gruppo compatto in queste prime fasi mentre vediamo appunto le ragazze della UAE nelle prime posizioni in ammiraglia la GB Junior Team, GB Junior Team diretta appunto da Enrico Giuliani, c'è la Isolmanta e premette vittoria, c'è Carlotta Borello con il numero dorsale 31, c'è anche Asia Zontone con il numero dorsale 35, intanto qui vediamo anche la nazionale ucraina che guadagna le prime posizioni in questo circuito molto molto nervoso che le ragazze cominciano appunto a pennellare, ricordiamo tra le altre Asia Zontone che proprio qualche mese fa ha ottenuto il campionato italiano, la maglia tricolore di ciclocross nell'organizzazione a Ostia Antica nel decimo municipio di Roma, l'organizzazione anche lì era a cura di patron Claudio Terenzi della Terenzi Bike e appunto oggi è in gara con le ragazze della Isolmant dirette in ammiraglia da Lorenzo Pagliaroli con le appunto Beatrice Rossato, anche lei grande protagonista Beatrice Rossato con il numero dorsale 33 oggi in gara al giro del Mediterraneo appunto la porta colori della Isolmant che è giunta in seconda posizione c'è la Roma Italia-Vaiano, basso in gruppo con l'immancabile Rasa Leleivite, grande protagonista diversi giri dell'Emiliez è andata a giudicare appunto ed è salita sul podio di questa prestigiosa corsa Emiliano-Romagnola la top girl Fassa Bortolo anche presente in gara diretta da Lucio Rigato, c'è Letizia Brufani della Bipinca per questo elenco, Letizia Brufani che è appunto il numero dorsale 61 e poi c'è Silvia Zanardi, attenzione anche a quest'atleta in caso di arrivo allo sprint molto molto forte, già campionessa d'Europa a Trento, lo scorso anno tra le under 23 c'è Valentina Basilico, altra forte velocista, sarà molto interessante poi andare a capire in caso di volata chi tirerà e farà la prepista all'altra in questo caso per i colori della V-Pink diretti in ammiraglia da Walter Zini, c'è il team Mandel Speck, anche qui con Castagna Pozzon, Capasso, Bernardi, Oro, San Filippo, c'è la Born to Win, la formazione marchigiano della Ziraf con Sara Casasola, altra forte ciclocrossista, autrice di vittoria al Giro d'Italia di ciclocross e poi l'H2O con appunto Matteo Busato in ammiraglia, c'è la Pro Cycling Team quindi troviamo la formazione della Lightning, formazione appunto diretta da Paddy Aronson appunto queste sono le 12 formazioni che oggi sono qui in gara con le ragazze che stanno iniziando appunto a costeggiare le mura romane attorno al circuito delle Terme di Caracalla 6 km, il percorso è un circuito molto molto nervoso con queste ragazze appunto che ancora procedono di gruppo compatto e beh è un percorso appunto che ha ottenuto la deroga dell'UCIAI per appunto la sua lunghezza ridotta di 6 km, il regolamento vigente dice che dovrebbe essere appunto un limite di 10, la storicità della manifestazione, il prestigio e appunto le continue deroghe hanno fatto sì che da d'ora in avanti gli organizzatori avessero il benestare perenne, quindi il circuito delle Terme di Caracalla che appunto le ragazze stanno calcando è appunto derogato ad interim con le categorie internazionali, categorie che abbiamo avuto a modo di vedere nel giorno precedente con le categorie minori, quindi la categoria esordienti, allievi e con la categoria juniores, oggi aprono le ragazze stamattina per questa terza prova a loro nella storico, all'interno dello storico weekend del Gran Premio Liberazione, poi successivamente avremo la prova invece riservata al maschile e intanto le bellezze di Roma, qui appunto splendida e straordinaria, poi la vista della piramide Cestia, l'unico monumento superstite di una serie presente qui a Roma del primo secolo avanti Cristo quando l'edilizia funeraria fu interessata da quella moda spasimata che proveniva dall'Egitto, l'Egitto conquistato nel 31 avanti Cristo e c'è Caio Cestio, un influente politico romano, dispose che nel testamento ci sia la sua tomba a forma piramidale. Lungo la via Ostiense, questa è una delle curve adù con i falsoppiani che tendono a scendere, poi tendono a salire, dove le ragazze appunto prendono, come si dice in gergo, la frustata perché dietro? Perché davanti impostano la curva, chi ovviamente nelle prime posizioni con la sua velocità, con la sua traiettoria, dietro invece sono costretti a dover rilanciare e ad aver dovuto frenare precedentemente, poiché appunto tutte non possono essere là davanti al comando e quindi c'è anche il rischio dell'effetto molla e il rischio di perdere le scie del gruppo, gruppo che ancora una volta rimane compatto. Con le prime posizioni vediamo adesso le formazioni, quelle della Isolmant che è balzata al comando dopo che abbiamo visto sempre là a dirigere le operazioni, le ragazze della UAE Development Team, la formazione satellite, la formazione quella, il bacino d'utenza delle ragazze Under 23 che poi appunto sono in prospettiva di lancio per la categoria professionistica con la categoria Elite, appunto qua abbiamo la categoria Under 23 di questo team e siamo a questo passaggio nella giornata appunto dove vedete tanto tanto pubblico. Oggi anche Roma si vede per un breve tratto di 6 km sgombra dai mezzi che solitamente vanno ad occupare la carreggiata, quindi oggi spazio green, spazio alle biciclette appunto con queste ragazze. Ragazze che sono adesso al primo passaggio sotto il treguardo, 15 giri alla conclusione. E inizia allora il secondo giro del Gran Premio liberazione Coati. Eccoci qua, la prima azione di giornata, il portacolori della B-Pink, Letizia Brufani che ora forza l'andatura e rompe l'indugi per prima. Dietro c'è la Mendespeca che prova a ricucire qualche metro di vantaggio, adesso lo guadagna Letizia Brufani, l'umbra appunto della B-Pink che proprio qui a Roma ha con l'arrivo all'ipotromo delle Capannelle si è aggiudicata già un titolo italiano di ciclocross quando era allieva di secondo anno e adesso è là davanti che forza l'andatura. Vediamo dietro appunto che non lasciano tanto spazio se continua a rimanere lì nel mirino farà molto a fatica Letizia Brufani, ora sì che però c'è un momento di esitazione, c'è appunto chi tira il gruppo che prova a richiamare l'attenzione delle altre compagne che non c'è e allora questo tutto da vantaggio di Letizia Brufani che si volta alle sue spalle adesso e nota, nota che i secondi di vantaggio cominciano a crescere. Eccoci qua allora un'altra svolta a chi attacca appunto è Letizia Brufani della B-Pink, la prima azione del Coati Gran Premio Liberazione. Un circuito quello delle terme di Caracalla anche complesso per quanto riguarda gli attacchi perché chi attacca è sempre nell'ottica viste le numerose curve ad U, i numerosi rettilini che sono alterni appunto l'un con l'altro e quindi anche il gruppo continua ad avere un contatto visivo che lo aiuta, lo aiuta appunto per tenere sott'occhio eventuali fuggitivi e fuggitive di giornata. Intanto sempre lei adesso Letizia Brufani che va alla questa svolta, curva ad U, vediamo il gruppo appunto, vediamo che ancora il margine non è importante per Letizia Brufani che comunque è la prima azione che si va a registrare. La porta colori della formazione B-Pink che abbiamo detto essere una delle formazioni più attese in quanto ha diverse frecce al proprio arco questa squadra con diverse velociste forti, tra l'altro Silvia Zanardi come abbiamo detto già la campionessa d'Europa nel 2022 e 2021, pardon, Under 23 a Trento è anche giunta già decima lo scorso anno e quindi insieme a Valentina Basilico, insieme alle altre ragazze c'è anche Alessia Patuelli, l'Imo Lese appunto della B-Pink, un bello squadrone che adesso ha provato a lanciare appunto Letizia Brufani ma la situazione come la grafica appunto ci suggerisce è che è nulla da fare per lei, siamo appunto al gruppo compatto, la nostra sintesi filmata invece ci porta nelle fasi finali di corsa con l'ultimo giro, ultimi 6.000 metri della prova Coati Gran Premio Liberazione, ragazzi ancora al gruppo compatto nonostante i numerosi tentativi di fuga, nulla da fare, tutti quanti neutralizzati e ora l'arrivo finale, gli ultimi 6 km vedono l'azione quella di Alice Palazzi della Top Girl, Fassa Bortolo, l'atleta marchigiana che adesso prova l'azione nata il 25 gennaio 2002 appunto con lei che ha già ottenuto tanti tanti podi la ricordiamo nelle prove da Juniores e poi appunto ha avuto il trascursus nella formazione della Re Artù in Emilia Romagna, adesso milita con i colori della Fassa Bortolo e adesso è l'al comando che prova questa azione con il gruppo tuttavia che è lì, praticamente la sta braccando lì nelle sue scie, mancano pochi metri appunto già questo ricongiungimento nulla da fare per Alice Palazzi che ci ha provato un coregruppo compatto quando siamo a questa svolta, pronti allora a vedere in questa manifestazione che ricordiamo oggi ha anche un significato speciale, ha anche un significato particolare perché la giornata di oggi è quella che celebra anche Mario Carbutti, proprietario dello storico negozio di biciclette nel cuore di Roma, Cicli Lazzaretti più che altro lo si conosceva che era diventato nel corso di oltre 100 anni di storia il punto di riferimento per il ciclismo, ha voluto questa corsa e oggi appunto le ragazze la onorano con la loro grande battaglia con Letizia Brufani, ora nuovamente doppia azione appunto che andiamo a risegnalare proprio di lei, già era scattata al corso della seconda tornata, ci prova all'ultimo giro, nuovamente Letizia Brufani della Bpink, la ragazza appunto prova l'azione finale definitiva nei confronti del gruppo che nel corso della seconda tornata non gli ha lasciato spazio e sembra ancora più decisa rispetto a prima, quindi è riuscita a recuperare le energie e ora a tentare di sferrare l'attacco decisivo, la stoccata, quella che prova adesso Letizia Brufani dietro il gruppo la vede, sono lanciati in questo fasso piano che tende a scendere, questo va ad avvantaggiare ovviamente chi insegue oltre al fatto del contatto visivo che anche prima appunto dicevamo, Letizia Brufani appunto rilancia la sua azione, si rialza ancora una volta sui pedali dietro però il gruppo è lì, veramente molto molto vicino con queste fasi molto molto emozionanti appunto Letizia Brufani continua a insistere nella sua azione con, attenzione una ragazza della UE che prova adesso a riportarci sotto, vediamo che si zizzaga alle sue spalle, non c'è l'accordo per andarla a prendere però l'UAE adesso ha già diverse pedine posizionate là davanti al comando e non è ancora completata questo ricongiungimento, vediamo adesso che ci sono altre squadre che si stanno incaricando di andare a riprendere la porta colori della B-Pink e Letizia Brufani, nulla da fare perché ancora una volta adesso sembra, sembra che dietro si stiano riportando sotto però si guardano, non sono decise nel tentativo di riportarsi sotto, Letizia Brufani infatti rimane con una manciata di metri sul gruppo e questo potrebbe essere un momento decisivo perché si spostano, si rialzano dietro alle sue spalle e non c'è, non c'è molta convinzione nell'andarla a prendere, c'è un'atleta invece della Fassa Bortolo che cerca adesso di uscire, la supera e allora adesso evolve la situazione al comando con Alessia vigilia della Top Girl, curva giù e con la porta colori della Fassa Bortolo, adesso scatta i contro scatti nelle fasi conclusive, molto molto emozionanti del Quati Gran Premio Liberazione vediamo dietro, pronti a vedere la telecamera che si gira a mostrarci che cosa sta avvenendo nel corso di questo emozionantissimo e battagliato ultimo giro, il vantaggio comincia a essere anche qui importante con la nostra moto di ripresa, le quali vanno fatte anche i complimenti a chi ci sta regalando queste splendide immagini perché non è assolutamente facile andare a riprendere le fasi salienti di questa manifestazione in un circuito molto nervoso non solo per le ragazze ma anche quindi per i tanti operatori che sono lì e che appunto stanno riprendendo questa nostra manifestazione ma intanto la situazione vede il gruppo dietro che continua con diversi tentativi a riportarsi sotto con Alessia Vigilia della Top Girl là nella prima posizione ma arriva la B Pink, arrivano altre ragazze della UAE, nulla da fare per Alessia Vigilia che è in prima posizione, gruppo compatto allora e ancora una volta sembra appunto che il gruppo compatto non voglia concedere spazio a nessun attaccante, sono veramente lanciatissime in questo finale, gruppo appunto che sta per ritransitare per l'ultima volta davanti alla piramide Cestia in via Ostiense con le terme di Caracalla, la via delle terme di Caracalla, eccole qua le mastodontiche termi imperiali, simbolo di grandezza dell'antica Roma che appunto erano fortemente volute dall'imperatore e oggi appunto qui le ragazze sono all'ombra di queste mura per andarsi a giocare questa terza edizione per loro della Coati Gran Premio Liberazione attenzione perché ora ci prova l'UAE Development Team con l'italiana Anastasia Carbonari in numero d'orsale 14 che tenta l'azione, attenzione perché la Top Girl fa sabortolo però è lì che continua a tenere d'occhio, continua a non concedere spazio, mentre attenzione perché c'è anche la formazione della Isolmant e qui partenze con anche Alessia Vigilia che ci riprova e attenzione quindi perché dietro c'è con la Top Girl c'è la V-Pink c'è la formazione quella della Isolmant con Beatrice Rossato, lo avevamo detto appunto anche questa un'atleta molto interessata e con Carmela Cipriani c'è appunto la V-Pink, c'è Silvia Zanardi là nelle prime posizioni, la velocista della formazione della V-Pink, vediamo ancora il gruppo compatto si studiano, si guardano le ragazze in gara oramai prossime al cartello che gli andrà ad indicare l'ultimo chilometro, intanto ancora la situazione vede il gruppo compatto nulla da fare per le azioni che si sono succedute fino a questo momento, un grandissimo spettacolo quello delle ragazze appunto nel corso di questo ultimo giro e in caso di volata appunto da tenere d'occhio quest'oggi è Silvia Zanardi già campionessa europea Under-23 con Matilde Vitillo ad Anadia e poi l'anno successivo a Monaco campionessa d'Europa Elite con Rachele Barbieri sempre nella disciplina della Madison, quindi lei è tra le ragazze da tenere maggiormente d'occhio la ragazza classe 2000 di Fiorenzuola di Piacenza, adesso è l'UAE che si incarica appunto di gestire le operazioni in gruppo quando siamo all'ultimo chilometro bandierina rossa Flamme Rouge, ultimi mille metri del Coati Gran Premio Liberazione bene, occhio quindi anche alla Isolmant, occhio alla Top Girl Fassa Bortolo che ci proverà appunto con Cristina Tonetti la Isolmant appunto abbiamo visto là nelle prime posizioni c'è Carmela Cipriani che controllava che nessuna potesse sfuggirli anche lei da tenere d'occhio in ottica di volata l'UAE che appunto lancia questo grandissimo treno per la sua porta colori con Sara Fiorin che appunto oggi è la leader disegnata di questa formazione gruppo compatto e quindi verosimilmente sarà uno sprint sulla via delle terme di Caracalla a decidere questo Gran Premio della Liberazione Coati, l'ultima curva, lo sprint lanciato là nelle prime posizioni con l'UAE che sta facendo appunto il trenino per tirare fuori Sara Fiorin però dietro attenzione perché rinviene la sagoma quella della Bpink con Silvia, Silvia Zanardi in prima posizione la Campionessa d'Europa di Trento, l'Alcomando conquista la Premio Liberazione, Coati con in seconda posizione la Top Girl Fassa Bortolo, Cristina Tonetti, terza posizione dovrebbe essere Giorgia Bariani eccoci qua con la grafica appunto della Top Ten, Giorgia Bariani terza della Top Girl Carmela Cipriani quarta della Isolmant, Elisa De Vallier della H2O Sara Fiorin sesta della White Development Team, Alessia Vigilia settima della Top Girl Valentina Basilico della Bpink in ottava piazza, Beatrice Bozzo Bon del Team Mandelspec nona chiude la Top Ten la ciclocrossista Sara Casasola della Born to Win Ziraf e la vittoria è per Silvia Zanardi l'anno scorso in decima posizione, quest'anno ha tolto quello zero, vincitrice di Roma da Leonardo Metalli è tutto, l'appuntamento alle prossime corse Coati Liberazione Donne, la gara di Roma vinta da Silvia Zanardi che è qui con noi, facciamo tanti complimenti, ciao benvenuta e raccontaci questa tua gara, questa tua vittoria in volata ciao, grazie mille a tutti, sono davvero contentissima di aver vinto oggi era uno degli obiettivi che mi ero messa diciamo nel mirino e sono davvero contentissima di essere riuscita a vincere quest'anno e devo ringraziare davvero tutta la mia squadra e il mio allenatore che ci ha creduto e ha creduto in me fino alla fine Parlerci un po' di questa B-Pink che oggi con la tua vittoria si è giudicata anche il trofeo intitolato a Mario Carbutti che fu il promotore della gara femminile qua a Liberazione Siamo una squadra molto giovane, ragazze giovani ma molto promettenti siamo state davvero molto unite tutta la gara le mie compagne hanno cercato di entrare comunque in tutti gli attacchi e poi qua sul finale avevo comunque due mie compagne che cercavano di portarmi davanti e devo ringraziare anche Alessia che nonostante non abbia finito la gara ha fatto davvero un lavoro perfetto per me e mi ha portato dentro al terzo giro quando sono stata coinvolta in una caduta quindi devo ringraziare tutte Quindi hai pure dovuto affrontare una caduta se hai dovuto fare il forcing per rientrare in gruppo? Sì, purtroppo è caduta la mia compagna di squadra Nora davanti a me, io le sono volata sopra però sono riuscita comunque a restare in piedi solo che mi era caduta la catena quindi ci ho messo un pochino a rialzarmi e ripartire ma è stata davvero molto brava Alessia che mi ha aspettata e mi ha riportato dentro Presidente, una grande festa dello sport all'insegna del ciclismo per tutta la comunità cittadina romana un'immensa gioia veramente essere qui con questo entusiasmo soprattutto dopo tantissimi anni si continua a celebrare il Gran Premio della Liberazione con un'immensa professionalità e una grande passione da parte del team Terenzi e ovviamente tutto lo staff che ha portato dopo tanti anni questa celebrazione ancora nel ricordo di tanti romani e non solo perché veramente questa città oggi è invasa e soprattutto all'insegna dei valori dello sport, del ciclismo che ovviamente per Roma una città che deve essere aperta allo sport sono i simboli principali oggi di questa intensa manifestazione quindi il grazie mio va a tutta l'organizzazione e ovviamente al team Terenzi Presidente, Roma al centro del mondo del ciclismo internazionale ma soprattutto all'interno di una data che simbolicamente vuol dire tanto per Roma e per l'Italia Beh, dal 1946 penso che una grandissima città oggi sia risvegliata e quindi celebriamo un ricordo bruttissimo ma anche oggi cortei, iniziative, manifestazioni per ricordare appunto dall'occupazione nazifascista e ovviamente una città che sia invece liberata quindi credo veramente che sia un grande intento quello che oggi rappresenta il Gran Premio di Liberazione e a brevissimo questa città ospiterà il Giro d'Italia quindi noi siamo entusiasti per far sì che appunto Roma sia la città per lo sport e la città per i grandi eventi Grazie condендую un pressured του Giro la città per i grandi eventi no perché a li